Sono Roberto Cherubini e vi do il benvenuto al podcast dedicato alle poesie maceratissi di Giordano De Angelis. Mezzo all'asfardo è tanto più bella, le case quasi tutte decimendo, per esempio io per Santa Maristella dove da Vardaci amo a Pomigia, c'è sta un quartiere ad una sciccheria. Oddio che ordaci, dentro mi sento, quando che stavo in vena di pensare, il cuore è pieno di malinconia. Però mi passa subito perché più che il cuore, con della ragione, con lo progresso è meglio, se sta bene, se sto convinto, la voglia. Che malunque, ve mi a trovare, magari per Natale, allo scomporto mio non c'è pezzato, non c'è fa caso, io so fatto male. Ogni quartiere è qui ad una città, strade, palazzi, mi dissi che bellezza, la gente cuore quasi tutta a branchi. Se il veni, penserai alla giovinezza, ci appunteremo i capelli bianchi. Oddio non si cammina, c'è lo tramme, rida un posto all'armi in un momento, Codristi anche fa meno delle gambe. Insomma, se sta bene, io so contento. Adesso basta, voglio essere sincero. Con la raiola, il cuore non sembro voglia. Lo sai? Ha slargato anche il cimitero. E qualche volta, ah, mi viene voglia. Grazie a tutti. Grazie per aver ascoltato il podcast dedicato alle poesie maceratesi di Giordano Leandris. Se avete apprezzato questo episodio, non dimenticate di iscrivervi al podcast per restare aggiornati sulle prossime uscite. A presto.